Da questo preciso istante, la console sarà solo, esclusivamente, di SEPTOP CROWD! Iniziamociò. Soprono lo spiega, il ruolo di cuore. La mia piccola è una città di più, Fabio! Mi sono a criterio. Sì, sono in genio, ragazzi, e io mi dice, Home, è una città di più, ad la tua, alla nostra salute. Grazie a tutti. Grazie a tutti.